ciao a tutti benvenuti sul mio canale il modello di oggi è la porsche 962 di asegava questo modello è nella fattispecie non il box completo di asegava ma il box della revel un modello che fu commercializzato io direi quindicina d'anni fa tutti se non venti anni fa ce l'avevo nel negozio sul dettino parliamo di una vita fa e probabilmente erano gli anni in cui la revel aveva gli accordi commerciali per usare in prestito gli stampi da asegava e quindi riboxare in europa i loro modelli con il brand tedesco il plus che si ha avendo un modello della revel è che al tempo dato che avevano dei box orrendi avevano un box che si apriva lateralmente come tanta revel di oggi continua ad avere quel box che non piace a nessuno un disegno di copertina abbastanza ghiacciante e soprattutto una descrizione del modello revel che era sbagliata perché loro la chiamavano 956 c quando in realtà questa è lo stampo di jegermeister lo stampo della macchina jegermeister erano assolutamente lo stampo asegava che fu solo fatto su 962 962 956 sembrano molto simili quindi profani potrebbero dire ma non cambia assolutamente un tubo in realtà la macchina pur essendo simile aveva delle differenze abbastanza importanti perché prima di tutto erano vetture che potevano montare ruote più grandi quindi questa montava i 17 tutta l'arcata posteriore della carrozzeria diventava più grande per ospitare la sospensione nuova con le ruote nuove e questa zona qui è in genere quella davanti praticamente alla al corner della della portiera c'è una banda dove c'è dentro la freccia loro avevano una sorta di omologazione stradale quindi dovevano avere le frecce queste macchine qui fari freggio doveva essere ancora probabilmente un rettaggio del delle sport degli anni 70 praticamente quel pezzo lì diventava più lungo perché tutto il frontale aveva una sagoma simile ma diversa rispetto al 956 e non solo per la configurazione della della vettura muso corto entrambe sia 956 che 962 avevano clip frontale che cambiava per efficienza aerodinamica però nel 962 diciamo che questo pezzo qui cambiava perché il passo diventava leggermente differente questione di centimetri è perché tutta la sospensione anteriore era stata posta avanti alla pedaliere queste erano macchine dove se avete modo di incontrarle a qualche fiera è bestiale vedere come sono fatte dentro perché erano tutte fatte di rivetti scatolato d'alluminio quindi una roba veramente dove purtroppo sono successi degli incidenti terrificanti era soprannominato in gergo di chi correva il cerino perché aveva un body completamente in fibra di vetro che prendeva fuoco solo a guardarlo infatti qui mi ricordo l'incidente al fuji di chris nissen credo che fosse nel 91 92 praticamente fece un incidente al vecchio fuji che è quello che trovate nei videogiochi tipo gran turismo così quello velocissimo e quello senza le varianti e praticamente la macchina in uscita box dopo un rifornimento ha avuto un malfunzionamento un bocchettone del carburante prese fuoco immediatamente e dal box fino all'uscita della corsia box la macchina era già bruciata fino alle ruote con il pilota dentro quindi quasi tragedia perché poi non morì ma ebbe una vicenda personale terribile perché se voi cercate su internet le foto di questo pilota danese oggi ha un'altra faccia per intenderci quanto andò a fuoco sto cristiano con questa macchina e quindi niente il canone di sicurezza di questi prototipi era era pazzesco c'era veramente roba dove ci si ammazzava estremamente in modo facile stefan bello ci ha lasciato la pelle con un 962 quindi cercavano in tutte le maniere di fare la categoria gruppo c quindi vettore velocissime non eccessivamente potenti rispetto alle potenze che c'erano prima ma proprio aerodinamicamente estremamente efficace quindi velocissime in pista erano ancora gli anni dove si cercava di avere uno studio sulla sicurezza attiva e passiva delle macchine che visto oggi fa effettivamente ridere come detto io ho una foto di me stesso bello sorridente col cappellino Bridgestone in mezzo alle portiere di un 962 a Monza e la quantità di rivetti che a sta macchina sembra veramente una caffettiera ecco per quanto fossero vetture modernissime e vincenti perché la macchina era era una vettura vincente in quegli anni lì quindi avere questa era era veramente qualcosa di speciale tutto avevo scoperto che Porsche nel lancio delle 956 e delle 962 che fu una vettura competitiva per oltre un decennio quasi quasi 15 anni di corse importanti è fatto vincendo tra l'altro perché non aveva come requisito fondamentale di essere né la più veloce né quella che faceva al tempo migliore ma la Porsche 962 e la 956 tendeva a non rompersi mai cioè era una di quelle macchine che veramente fatta per le gare di durata e durava quindi poi ci furono tentativi fu Brun che provò a prendere uno chassi della Porsche picchiargli dentro un motore Jude la macchina era identica a una Porsche faceva tre giri e scoppiava quindi se non era fatta da loro se non era fatta da Porsche la macchina non era vincente offrivano un pacchetto per chi voleva correre che era molto interessante perché lei si su una rivista che con circa 300 milioni dell'epoca quindi 300 milioni degli anni 80 quindi sono bei soldi anche negli anni 80 però ti davano la macchina con i motori di ricambio e un gruppo di meccanici che ti seguiva per le gare quindi era non dico alla portata di tutti però era più fattibile rispetto ai costi che hanno le gare oggi per correre con vetture anche di merda TCR quelle categorie lì che secondo me non si guardano le Cupra quei mestieri lì Gesù non si guardano cioè sono veramente gare dove per carità anche ottimi piloti che corrono ma vabbè sapete come la penso per quanto io ci abbia lavorato è con quelle macchine lì quindi non parlo da esterno al 100% tornato al modello niente da dire Asagav ha fatto un modello molto semplice la sagoma è molto differente dal Tamtec della Tamiya non avete da impazzire a ricreare la zona profonda delle prese d'aria come io avevo fatto nell'archivio dei miei video trovate anche la 962LH Long Tail che avevo fatto partendo da un 962LH della Tamiya è più facile da fare come modello anche perché i trasparenti sono tutti stampati a parte non dovete impazzire con le mascherature non dovete impazzire a ricostruire da zero in pratiche i radiatori che nel modello Tamiya non ci sono di fatto e si monta molto molto bene è molto semplice cioè è un modellino che proprio io ci ho messo due settimane a fare non era neanche una scatola questo era un avanzo di un oggetto che io stavo per buttare via perché in origine avevo comprato quasi a nulla credo di averlo pagato ma neanche 10-15 euro un kit da un amico e gli tagliai tutta la coda perché tutto il pezzo dell'alettone di coda con i montanti e con quelle parti lì le avevo utilizzate per fare la Porsche 966 poi pensavo che con questa carrozzire ci avrei potuto fare qualcos'altro qualche versione strana alla fine ho detto sai cosa c'è ho recuperato una decal una decal di Revell che era la cosa ottima di quelle scatole quando ci fu questo consorzio tra Revell e Segava praticamente nelle scatole della Revell trovate delle decalcomanie di Kartogra che sono di ottima qualità io non dico mai che sono un grosso fan di Kartogra perché a seconda delle annate sono o molto dure o molto morbide o reagiscono troppo con gli ammorbidenti io uso ammorbidente gunze che è parecchio aggressivo con le decal quindi in alcuni casi è molto facile bruciarle perché per esempio questa è il panda bicolore argento, scusate, oro e rossa è una decal, sono due decal da combinare insieme con uno scasso nel mezzo hanno una curvatura da applicare sono abbastanza un incubo perché la decal è un cartone quindi non si lavora bene bisogna ammorbidirla, stare lì delle ore con i pennellini a cercare di renderla morbida però è fondamentale farla bene perché se fate una livrea Rotmans i colori quelli sono quindi non si scappa bisogna farla giusta come potete notare se avete queste scatole di Asegava i cerchi non sono i suoi nel senso che la versione originale della Porsche con le decal racing non Rotmans questi erano gli sponsor che venivano usati che venivano usati nei paesi che già negli anni 80 non consentivano la pubblicità dei tabacchi e quindi anziché scrivere Rotmans Racing loro ipocritamente dicevano la macchina la vedi chiede con i colori della Rotmans in tutte le gare fa Rotmans però in questi posti dove non si può scrivere Rotmans scriviamo Racing e quindi diventa Racing Porsche orenda come definizione però tant'è questa era e ci sono fotografie della macchina vera fatta così però come dicevo quasi sempre montavo gli Spocket BBS a 6 bracci invece io qui ho voluto usare il nido d'ape tipico di BBS ho anche fatto una delle mie piccole stupidate sulle ruote nel senso che ho voluto applicare un micromagnete con una banda metallica per poterla vedere anche in pura configurazione BBS classica German Style BBS e con il magnete nel mozzo della ruota se mi dovesse tornare la voglia di rimontare bisogna prendere l'angolo dove c'è la valvola ecco in posizione perché in tutte le foto montavano comunque i ventoloni di raffreddamento per i freni quindi a me quei ventoloni non piacciono i BBS e mi piace vedere i BBS sia sulle macchine vera che sui modellini come parecchi sanno e quindi niente ultimo dettaglio che è un must per i modelli dell'asegava e anche di Tamiya bisogna sempre rifare il tergicristallo quindi usate come guida il tergicristallo a ghiacciante che trovate di plastica dentro la stampata dell'asegava o della Tamiya e ve lo ricostruite con delle fotoincisioni si compra la spazzola in fotoincisione del tergicristallo sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei sono otto pezzi di fotoincisione ma fatelo perché ne vale assolutamente la pena io a ingrandire dal video non si vede mai ingrandire poi quando faccio il video con la musica a Tamarra lo farò vedere meglio addirittura gli ho fatto anche il cavetto quello per l'acqua del detergente o del cavo che scorre insieme praticamente c'erano queste fotografie questo cavo credo che fosse il detergente per pulire il tergicristallo alle alte velocità tergicristallo strano perché è chiaramente un doppio braccio come quello delle Kuntach perché in alta velocità in questi anni qui non riuscivano a fare un tergi monobraccio per la curvatura del parabrez that's it modello molto carino secondo me si monta davvero in vorrendo correre si fa anche molto prima del tempo in cui l'ho fatto io io ho voluto fare una cosa rilassante fatta bene proprio da scatola cercavo il modello da scatola e mi sono divertito un bel po' modello molto semplice aseghava adesso gli ha riproposti i prezzi aggiornati del 2022 quindi questo che era un modello da 10-15 euro adesso li trovate a 40-50-60 euro a seconda del redbox che c'è c'è anche credo il redbox proprio di questa versione qui fatto in originale da aseghava sicuramente avrà le decal che non sono valide come queste perché a modello finito le decal qui rendono da morire e io mi sono sempre trovato mani invece con le decal di aseghava molto più dure però il modello è questo è un classico dei classici dato che sto facendo come avete visto c'è qualche Porsche in costruzione anche lì dietro c'è lì il cadavere che non è un cadavere quello se quando mi ricordo di recuperare una scatola la faccio diventare un GT3 di qualche cosa boh magari quella ibrida elettrica non lo so dove trovare una libreria che mi piaccia per fare il GT3 2010 questa è comunque un'altra Porsche imperdibile che volevo avere nella mia collezione questo è quanto nulla divertente montatela costruitela godetevela bella Porsche 962 aseghava grazie alla prossima grazie a tutti